Sì, vi è stata fatta una domanda spesso da parte vostra, insomma, cosa non sopporti del mondo dei social? Non sopporto il fatto che magari molte persone si iscrivano a YouTube o a TikTok, eccetera, per controllare quello che faccio. Non so se ci siano queste persone, mi auguro di no, ma se ci fossero queste persone devono sapere che comunque c'è la maniera per capire chi sono, c'è la maniera per risalire ai loro profili, perché so che una ragazza appunto ha subito questa cosa. Ho letto su internet che c'è questa persona che, insomma, aveva dei follower sospetti, delle persone che la seguivano solo per controllarla. Ecco, se dovesse capitare a me, intanto con queste persone non vorrei più avere niente a che fare e quindi taglierei i propri ponti. È brutto, è una cosa brutta, secondo me, ecco, sapere che hai dei fan che ti guardano soltanto per vedere cosa pubblichi, se pubblichi robe scandalose, se pubblichi robe giuste, è proprio brutto e quindi questa è la mia risposta. Ciao ragazzi, buona giornata!